A Polla, nei giorni scorsi, alle 9.30 del mattino, ha convocato il Consiglio Comunale che era stato già sospeso qualche settimana fa dal Presidente Tiziana Medici. Che cosa è successo in quell'occasione, anzi in occasione della ripresa del Consiglio Comunale? Forse è meglio fare qualche riferimento al precedente Consiglio. Quel Consiglio fu sospeso senza non c'erano motivazioni valide da poter sospendere il Consiglio Comunale. Il Presidente ha ritenuto opportuno sospendere il Consiglio perché loro avevano quella sera in grosse difficoltà. C'era una dichiarazione da fare, cioè l'appartenenza, l'orientamento politico dell'attuale maggioranza. Era un argomento che secondo me potevano anche non rispondere perché non c'è un vingolo di mandato sull'appartenenza politica. Loro hanno voluto in qualche maniera entrare nel merito. E quando uno entra in merito aveva anche spiegato i motivi che poi portano a decisioni che sono abbastanza forti. Quella sera però non c'era l'artefice del passaggio, Rocco Giuliano, non c'era neanche il Sindaco. E ha mandato un laconico comunicato, quello che era da quella sera in poi. E quindi l'amministrazione si è poi frastagliata in diversi gruppi. I diversi gruppi sono diventati quattro. C'erano quattro indipendenti, tre del vecchio PSI, tre del PD e poi c'era Rocco Giuliano che personalmente era rimasto solo a rappresentare la maestra. La motivazione è che loro in pratica hanno preso questa decisione perché pare che Rocco Giuliano abbia un mandato spirituale da qualcuno. Cioè lui parla di territorio, a me non risulta che quel territorio l'abbiano incaricato a passare a destra per preoccuparsi dei problemi del valutiano. Fa testo una dichiarazione fatta dal Sindaco di Auletta, Corcozza, il quale in un comizio ha detto chiedo scusa ai cittadini di Auletta per averli invitati alle ultime provinciali a votare per Rocco Giuliano. Quindi la polemica nasce principalmente proprio da questo passaggio del consigliere Giuliano che poi ha anche ufficializzato nei giorni scorsi in provincia la sua adessione al nuovo PSI e che non è ben vista ovviamente dall'opposizione consigliare che rivendica i voti dei cittadini dati invece a tutt'altra parte politica. Non da tutta l'opposizione. Io fino a prova contraria sono il coordinatore in prorogazio ma sono io il rappresentante della destra. Anche se negli ultimi tempi non sono molto simpatico al Palazzo Sant'Agostino perché non sono un militante militarizzabile. Io vivo dalle mie idee. In politica abbiamo lavorato con le nostre tasche, bene che Cirelli lo sappiano. E avremmo voluto quantomeno che Cirelli ci avesse informati con una telefonata. Le cose a partire da oggi potrebbero cambiare perché stiamo facendo gli investimenti politici, investimenti elettorali. E' calato un sipario dove noi quando parlano di centro-destra, noi il mio gruppo che poi è il maggiore gruppo di opposizione non viene investito in nessuna maniera, ne parlano tra di loro, compreso qualcuno della minoranza che si è sbagliata una mattina e si è trovato di destra pure lui, che non ha votato Cirelli, hanno fatto una campagna atroce contro Cirelli, sia l'uno che l'altro perché noi siamo tre gruppi di opposizione. Oggi noi ci troviamo in qualche maniera orfani, non orfani di eologia perché l'eologia resta. Noi abbiamo fatto un giuramento, la politica è anche movimento, pensiero, non so neanche che cosa dire. Ma lì c'è il genere che si sveglia la mattina e quindi vengono invitati regolarmente ai consigli provinciali. Io non ho potuto assistere a un consiglio provinciale. Volevo dire, l'uomo il quale ho seguito per vent'anni, fisicamente, come sembra in consiglio, non ci è stato permesso. E' una vergogna. Avrebbe potuto prendervi parte comunque? No, ma lì si va su invito. E poi non so neanche se sono gradito, perché vengono nel territorio. L'assessore, bella cosa, andando per fare un nuovo, non viene più dall'insezione, ma va a casa di amici. E' una cosa proprio che fuori dalle regole della politica. E' vero che le ideologie sono cadute e quindi oggi ognuno va dove vuole. Ma di questo passo io mi chiedo, dove andremo? Cioè, nelle prossime elezioni. Cirilli sarà il rappresentante di chi? Perché quello a chi tradisce una volta, questa è una convinzione, ma non è solo mia. Chi tradisce una volta, tradisce sempre. Noi bene o male, non è che siamo fedelisti, siamo come i cani. Però, voglio dire, un minimo di serietà. Uno che milita come me da 40 anni, una certa attentività ce l'ha. Questo rancore non è nasce, perché mi è stato negato qualcosa. Lui non chiediamo niente, perché Cirilli ci ha sempre detto. I Messini non chiedono niente, solo lui, che è il parlamentare che ha più carica in Italia. Ma vi va a dire, quantomeno una legittimazione a rappresentare il partito a Polla non ce la poteva dare. Non è che noi chiedevamo chissà che cosa.